La prima di Zeman, segnali interessanti. Biancazzuri hanno sempre provato a verticalizzare. Palmiero ha dato tempi e geometrie. Di certo la prestazione più convincente finora sfoderata dal metronomo napoletano, destinato senza dubbio a crescere. Il movimento senza palla e l'attacco dello spazio della mezzala, soprattutto di Mora, finalmente qualche sovrapposizione. Le tante occasioni create purtroppo non finalizzate. Tutte cose da confermare e migliorare. Ben Lescano è tornato al gol, il giocatore più discusso degli ultimi due mesi e mezzo. Grazie alla doppietta realizzata contro la Juve Stabia, l'italo-argentino è salito a quota 11 per il quarto anno consecutivo in doppia cifra. Merola, croce e delizia. Giocate di indubbia qualità, ma sottoporta due occasioni clamorosamente fallite. Peccato perché stiamo parlando di opportunità nate da spunti di alto profilo dello stesso attaccante napoletano, che tra l'altro ha ispirato il raddoppio di Lescano. Tuttavia rimpianti enormi per la mancata vittoria, figlia sì di errori commessi in fase di finalizzazione, ma anche nelle retrovie. Di certo a Zeeman il lavoro non manca, l'inizio però sembra incoraggiante. Domenica prossima, alle 14.30, trasferta sul campo della neopromossa Gelbison. Si gioca sul neutro di Agropoli, provincia di Salerno. La casa del team Campano in serie utile da tre giornate, una vittoria e due pareggi di fila con Gianluca Esposito, il tecnico della storica promozione in C. Esonerato quest'anno dopo appena quattro giornate e richiamato al posto di De Sanzo poco più di due settimane fa, alla vigilia della ventottesima giornata.